Tutti i punti di vista della società, innanzitutto perché ho trovato veramente un'organizzazione che sinceramente non credevo nemmeno di trovarmi, invece ho trovato una grandissima società alle spalle, e questo lo forse dobbiamo ringraziare il Presidente, e poi i compagni disponibili, quella è stata lampante la cosa, ma sin dai primi giorni, sono tutti ragazzi che veramente ci stanno mettendo il cuore, ci stanno mettendo la voglia e questo credo che porterà dei risultati. Sì, sicuramente emozione, nel senso che comunque era tanto che non giocavo, che sia eccellenza, che sia C1, che sia Serie A, tornare su un campo di calcio mi ha fatto piacere, poi un'eccellenza così qua, piacenza, è tutta un'altra cosa. Mi ha aspettato diverso? No, perché comunque come ha detto il mister prima, sentivo le ultime parole, di cosa stiamo parlando? Hanno fatto un tiro in porta e l'hanno fatto da 35 metri, se poi questo prende il giorni da 35 metri, noi credo che abbiamo avuto 6-7 palle goal, limpide, non potevo aspettarmi le soldi di verso, sì, magari la vittoria sarebbe stata meglio, però credo che dal punto di vista del gioco abbiamo esplorato una gran partita.